E che c'hanno i cannoni da Navarone questi? A Calabrese! Che cazzo spari a Calabrese? Sormonnezza! Te devo parlare! E allora? E allora non parte i coglioni, vengo giù te lo spiego! Figliocco Assessino! Buttala pistola, buttala! Come sei impulsivo! Te impulsivisci e quando te impulsi qua si capisce più un cazzo! Questo è un locale privato, bisogna essere soci per entrare! No! Va bene! Alino, guarda un po' come far monnezza perché un giorno te potrebbe pure servì! A Borghiba, noi vogliamo sapere soltanto dov'è la donna dei Brescianelli! Abbiate più dare, lasciate Camilla! E' in perico di vita, entro stasera deve essere riportata in clinica! Vi assicuro che farò di tutto per... Pronto? Chiamo Roma 2, chiamo Roma 2, mi sentite Roma 2? No, era una pecora, ma adesso so io, dimmi! Buongiorno! Sia lodato Gesù Cristo! Sia lodata pure l'anima degli mortacci tua! La monnezza, non scherzare! Guarda che qui l'ha rapito una ragazzina che c'era in i malati e se noi non arriviamo un tempo, quella mora, hai capito? Mori! Beh, chi se ne frega! Ma non mi fai quella faccetta? Ah! Ehm... Grazie a tutti.